musica 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 bello a tutti ragazzi lorenzo qua per voi benvenuti in questo video bello tu sei lorenzo allora mi vuoi sfidare mi vuoi sfidare ci sfidiamo oggi agli spettatori di youtube la sfida di oggi allora oggi faremo un armon workout di 500 ripetizioni quindi farò senti qua il più grosso sono io dai se lo spiega 500 ripetizioni di braccia abbiamo già un workout stilato sull'iphone quindi il link nella biografia lo troverete lì se sto per farglielo provare anche loro tanto sai senza recupero però lo faremo quindi sarà molto intenso niente boh raga incominciamo subito ci scaldiamo un pochino magari se no ci strappiamo io mi scaldo che mi hanno operato sia al piede che al dito io direi raga un like solo ed esclusivamente per lui che si sta allenando in stampelle cioè ti dobbiamo fare una statua spiega il motivo delle stampelle spiega il motivo delle stampelle spiega il motivo delle stampelle allora praticamente mi hanno operato sotto il piede perché avevo delle verrute adesso mi sono messo la scarpa e poi avevo diciamo un tumore benigno nel dito quindi era da operare oggi domenica mi hanno operato venerdì e lui vuole fare la bocca ma si ma perché lui è scarso quindi bene ragazzi ci siamo allora primo esercizio panca stretta abbiamo detto 5 set per 10 10 colpi ovviamente parte più forte è più scarso dai ok ne hai fatte 9 non 10 no hai fatto 10 hop buon morezzo ok secondo esercizio l'atomachine è presa supina supina capito? questa è supina 5 per 10 pezzoglio buon carina è bollone Lui braccia le ha fatte solo in America Ok raga adesso facciamo un super set Kickback per i tricipiti 10 ripetizioni e Carl con i manubri sempre per i tricipiti 10 ripetizioni 5 serie Mi tiro sulla manica per flexare i tricipiti Bello Possiamo cominciare Se non flexi non puoi allenarti Non puoi allenarti Se non flexi non sexy Amico Ovviamente in super set Tutto in super set Ricordando che lui non fa mai braccia Ma mai Non ha mai fatto braccia in vita sua 3 serie alla settimana di braccia E lo citta pure Sta cittando Non lo so fare Non l'ha mai fatto E' quello E' un po' le braccia come lui Vai vai Qua esce Un video bomba Tu Ciao Wow Vai Sixpack Sixpack Dai tu flexi affianco a lui Vai vai Questa potrebbe essere già la copertina Io mi ammazzo tutte le volte Figa stai preso Perfetto 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 Yes MIGA ti immagino con la barba Tipo Matteo Marcon Yes Siamo, ragazzi. Ah, ecco, forse io dovevo tenere più la spalla indietro. Sì, più parallelo alla... Perché altrimenti non riesco a bloccarlo. Sì. Beh,が per se. Ha hae. Pierrot. Sì. 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 Yera, per 6. Wow. Ah. Iscriviti al nostro canale Il cammellino Andiamo a vederlo E' vacca E' vacca E' vacca Guarda che lui è vacca Ho caldo Ho caldo Ok raga un set per 50 French press al full day Così rompiamoci agli altri Sì Cos'abbiamo ora Cos'abbiamo ora Lorenz L'avamo già detto 1x50 a Mercarl Guarda che bello con le luci dietro Romano ci mettiamo due anni a farlo Non farlo alternato Minchia Minchia Lorenz Facciamo vedere un po' di games Quality E' 50 rap si fan sentire E' 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 Benza Benza E' Bello Boo B E' But B Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.